Ok adesso vi svelo tutto, stiamo all'officina del cane a qualche chilometro da Milano, un 20 minutini Perché devi fare sti cosi? Rifacciamo E' un centro cinofilo dove vengono fatti anche corsi di formazione per istruttori O viene fatta l'educazione, educazione, addestramento, viene fatto un po' di tutto, anche agility Insomma, tutto La spettacolarità di questa struttura è che ti dà la possibilità anche di avere una piscina La piscina avete due modalità per sfruttarla La prima è ad uso sociale, lo chiamano, viene fatto per lo più il pomeriggio Cioè non avete bisogno di predonazione, voi arrivate e l'entrata, l'ingresso, l'utilizzo viene gestito dagli istruttori che ci sono al momento La seconda modalità è ad uso esclusivo Ovvero, voi prenotate per un'ora la piscina Potete sfruttarla liberamente come volete Potete portare all'interno tre cani Ed è compreso nel prezzo, dal quarto in su pagate un piccolo prezzino Un supplemento, definiamolo così È stupenda, è pulitissima, adesso ve la faccio vedere Yoda si è divertita tantissimo È gigantesca Poi all'interno già ci sono delle palline, dei giochi Anche il giubbotto salvagente noi ce l'abbiamo perché Yoda non si ferma mai Hai una piscina tutta per te per un'ora e poi compreso nel prezzo in un'altra ora nell'area verde Questa giornalina viene 25 euro se siete già soci Se no dovete acquistare la tessera per diventare soci E avete tutto questo venditivo Guardate Unica pecca Ma forse anche un lato positivo che non è per niente conosciuta Io pur essendo di Milano avendo Yodone che ha 4 anni Non la conoscevo L'ho conosciuta tramite una mia amica che viene qua E ve lo consiglio anche a voi di venire Noi ci ritorneremo tra due settimane Così almeno questo piccolo bullo mi dormirà per tutta la giornata Perché è stanco morto Ciccio Vieni qua No Pallina Ti amo Pallina 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 Grazie a tutti